Ciao, sono Francesco, lavoro per Mlol e oggi vi rubo qualche minuto per raccontarvi come funziona l'edicola digitale della vostra biblioteca. Di tutti i servizi che le biblioteche del sistema bibliotecario Nord-Est Milano hanno scelto di mettervi a disposizione tramite la nostra piattaforma, l'edicola è sicuramente uno dei più impressionanti in termini di numeri e di varietà dell'offerta, infatti accedendo con le vostre credenziali al servizio, che sono poi le stesse credenziali che utilizzate per accedere a Biblioclick, potrete leggere oltre 7.000 quotidiani periodici da tutto il mondo, nazionali e internazionali, dalla prima all'ultima pagina e sul dispositivo fisso o mobile che preferite. Com'è possibile tutto questo? Lo vediamo subito. Le biblioteche Sbnem hanno scelto di acquistare un abbonamento al servizio PressReader, una banca dati che vi consente di accedere a migliaia di giornali da tutto il mondo, in decine di lingue diverse. Il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, il Fatto Quotidiano, il Foglio, il Guardian, il Washington Post, le Figaro, la lettura, El, Vanity Fair e Focus, queste testate e moltissime altre possono essere lette da tutti nello stesso momento, da qualunque postazione dotata di connessione internet. Oltre a questo catalogo avete poi accesso ad alcune pubblicazioni nazionali come il domani, la Repubblica, la stampa. La differenza rispetto ai giornali PressReader è che in questo caso c'è un limite alle consultazioni contemporanee e dunque potreste trovare queste testate occupate. Se vi capita, ripassate dopo qualche minuto. Oggi ci concentriamo sui giornali PressReader. Leggerli da computer è semplicissimo. Vado al sito sbnem.medialibrary.it, effettuo l'accesso con le stesse credenziali che utilizzo per biblioclick. Cerco una testata, posso farlo per parola chiave scrivendo il titolo qui, ad esempio Corriere della Sera. Arrivo alla scheda, clicco su Sfoglia e mi ritrovo su PressReader, nella schermata in cui posso leggere per intero la pubblicazione che ho scelto. Posso zoomare su una pagina, posso cliccare su un singolo articolo e visualizzarlo anche in solo formato testo. E, tenendo premuto col mouse, visualizzare una serie di opzioni utilissime, la stampa e la copia dell'articolo, la condivisione social, ma soprattutto l'ascolto. PressReader infatti dà l'opportunità di ascoltare per intero la lettura di un articolo tramite una sintesi vocale, nella lingua di pubblicazione originale del testo. Così. Il vantaggio di PressReader, però, è anche la possibilità di leggerne i contenuti da mobile con la splendida app gratuita e omonima. Si fa così, da browser, nella pagina in cui leggo il giornale arrivando da Mlol, clicco in alto a destra su Sign In e creo un nuovo utente PressReader. Dall'App Store di iOS e Android scarico l'applicazione PressReader e la apro. Effettuo il login con le credenziali che ho appena creato e avrò a disposizione tutte le funzionalità che ho da browser, quindi la ricerca della testata, la copia, la condivisione e l'ascolto di un articolo in più. Posso anche scaricare la copia del giornale e leggerla offline in quei posti in cui non ho a disposizione una connessione Internet. Tutto qui. Leggere i giornali su Mlol è davvero semplice. Qualche promemoria per chiudere. Per accedere a Mlol occorre essere iscritti a una biblioteca del sistema bibliotecario Nord-Est Milano. Le credenziali che utilizzerete per Mlol, infatti, sono le stesse che utilizzate per accedere a www.biblioclick.it. Se non siete ancora iscritti, potete farlo anche online. Su Biblioclick cliccate in alto a destra su Accedi e poi compilate l'apposito form per chi non è ancora registrato. Per richieste di aiuto potete rivolgervi anche alle vostre biblioteche tramite il servizio Chiedino a noi. Infine, e rieccomi, in caso di problemi tecnici nell'utilizzo delle risorse, scrivete al nostro helpdesk. È aperto da lunedì alle 9 al venerdì alle 18 all'indirizzo info-medialibrary.it. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!